Oh ciao ragazzuoli, nello scorso video abbiamo visto Raspbian Testing, in realtà non so se sia proprio lo scorso video perché io sto registrando questo video oggi che è il 10 maggio, non so quando uscirà questo video, non so se uscirà, no uscirà sì perché non è che faccio video per niente, però non so quando uscirà, quindi magari io quello di Raspbian Testing l'ho registrato appena qualche minuto fa, però magari escono divisi, quindi uno esce una settimana e uno esce un altro e dire lo scorso video è sbagliato. Però a parte questo, oggi faremo lo stesso test che abbiamo fatto nello scorso video, appunto facciamo sempre inerente a Raspbian Test, a Raspbian, così siamo sicuri, però puntando i repository su Unstable, quindi facciamo la stessa cosa andando in etcaptsources.list e l'unica modifica che dobbiamo fare questa volta è modificare al posto di Testing mettere Unstable. In realtà non sono convinto che funzioni perché anche su Debian normale Unstable non funziona perché gli manca il file release, dovrebbero esserci dei modi per risolvere questo problema però non mi sono mai informato perché io non utilizzo Debian, comunque vada, vi lascio un attimo qualche secondo così se volete vedere intanto che spiego. Quindi proviamo a fare sudo apt update e sudo apt upgrade, vabbè upgrade è inutile perché tanto se dopo scopriamo che non funziona. Ok, Unstable update release 404 not found. Ottimo, è già qui, è già qui, si capisce che c'è qualcosa che non quadra, quindi probabilmente non funziona neanche qui, comunque vabbè è un esperimento insomma. Però in realtà a parte ciò sta trovando tutto effettivamente, quindi qualcosa mi fa sperare che magari funzioni anche se forse non sarà così. Attendiamo, no esatto. Quindi consultare la pagina man apt secure per la creazione di un repository e la configurazione utente. Com'è la creazione di un repository? Sì, vabbè, ma io in realtà non è che... Comunque il mio consiglio, che non l'ho detto nello scorso video, ovviamente se ora vado a fare apt upgrade non funzionerà, stavo dicendo, ciò che non vi ho detto nell'altro video è di disinstallare se volete fare questo aggiornamento, magari di testing ma anche di Unstable se sapete come fare perché lo riconosca, e di disinstallare prima tutti i pacchetti che non utilizzate. Perché? Perché magari vi aggiorna dei pacchetti magari anche pesanti e magari anche tanti, che per voi sono inutili, quindi questo vado ad aumentare. Ah, ma c'è qualcosa da aggiornare allora? Vabbè, probabilmente guarderà i repository... Vediamo cosa scarica. Scaricato Unstable, quindi ragazzi effettivamente non riesce a fare l'update, però riesce a scaricare gli aggiornamenti. Comunque a parte ciò che stavo dicendo, il mio consiglio è quello di disinstallare i pacchetti che non utilizzate, perché rischiate di aggiornare e magari metterci delle ore, e poi scoprire che potevate disinstallare metà pacchetti, per dire. E quindi insomma avete fatto degli aggiornamenti per niente, quando magari ci avreste potuto mettere, non dico metà tempo, però avreste potuto metterci un po' di tempo in meno, e insomma avete sprecato del tempo per niente. Insomma, se uno è a casa che non ha niente da fare può anche andare bene, però comunque risparmiare del tempo va sempre bene. Ciao belli! Ciao!